La piramide, migliori giocatori argentini di sempre Oh, qua va a finire male Malissimo Alfredo Di Stefano Seconda fascia Sivori Terza fascia Batistuta Terza fascia Richelme Mamma mia Terza fascia Crespo Quarta fascia Di Maria Quarta fascia Passarella Quarta fascia Ora ti voglio Ortega Ariel, che rido Quarta fascia Maradona Primo Messi Secondo Soddisfatto? È andata così